Allora sì, i riformisti sono rammolliti, il Partito Democratico, il Partito di Renzi e Forza Italia, sono rammolliti per una ragione molto specifica, che invece di avere il coraggio di opporsi a sovranisti e populisti andando alle elezioni, si sottomettono ai sovranisti Forza Italia e ai populisti Renzi e il PD perché hanno paura di non avere la forza e quando tu non hai paura di non avere la forza non fai il percorso che è giusto, che è quello di recuperare la rappresentanza, tradisci i tuoi valori, sei rammollito. E i sovranisti e i democratici non sono deboli, vincono quando sono capaci di esprimere un pensiero e un'azione forte. Il governo Renzi ha espresso un pensiero e un'azione forte in questo Paese ed è un peccato che oggi tutto quello che quel governo ha rappresentato sia tradito proprio da chi ne era Presidente del Consiglio. Quindi noi oggi, lo ripeto, la nostra posizione è di essere l'unico partito insieme a Pia Europa che non riconosce, anzi che ritiene fallimentare l'idea di fare alleanze con la Lega o con i Cinque Stelle. Renzi è pienamente dentro l'alleanza col Movimento Cinque Stelle e il fatto che la mattina voti i provvedimenti e il pomeriggio dica che i provvedimenti li ha votati per sbaglio non cambia il dato che quei provvedimenti li vota. Non avrei mai votato per l'abolizione dello scudo penale che Renzi aveva messo sull'Ilva creando un disastro di proporzioni gigantesche e poi raccontando che non l'ha fatto, che l'ha fatto però non se n'era accorto, però forse andava così. Secondo, non avrei dato mai la fiducia a questo governo per una ragione molto semplice perché si è verificato esattamente tutto quello che avevamo previsto cioè Forza Italia che non era nella coalizione con la Lega è andata nella coalizione con la Lega rafforzandola, lui che aveva detto non avrebbe mai fatto la scissione ha fatto la scissione indebolendo il Partito Democratico il Partito Democratico è completamente afono su qualsiasi cosa cioè non riesce a tenere il punto su una cosa tant'è che a un certo punto ha detto just culture però non insistiamo che in una coalizione di governo è come dire non si può fare.